È lunedì, è lunedì, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, lunedì 13 maggio 7 e 10 di un lunedì che piove, ma non se ne può più, si può dire che non se ne può più, se ne va a dover arrivare il caldo, il sole, tutto, il weekend ci ha salvato, almeno quello, voi come state, cosa fate, dove andate, 331-7853-555, il numero di whatsapp, come potete scriverci per raccontarci un po' quello che avete fatto nel weekend o quello che avete intenzione di fare questa settimana. E quindi, e quindi, e quindi, e quindi, vi dico un po', rimaniamo comunque collegati con una cosa, che è appena passato il compleanno di Crystal Radio, cioè sabato, così era sabato, sì, sabato 11, compleanno di Crystal Radio, 40 anni, voi c'eravate? Eravate? Eravate con noi? Spero di sì, spero di sì, beh, noi siamo stati tutto il giorno collegati, abbiamo iniziato alle 8 del mattino, finito a tarda sera, bellissimo, davvero, ancora tantissimi auguri. Sabato è stato anche la finale dell'Eurovision, l'avete vista? Vi siete visti tutto? Avete tutte le polemiche anche annesse, connesse? Niente, Angelina non ce l'ha fatta, poteva andare meglio, sì, poteva anche andare molto peggio, quindi insomma, alla fine siamo ben contenti che comunque la canzone è piaciuta e sta portando al successo una giovanissima Angelina Mango, ha vinto la Svizzera con una canzone che, beh, merita, merita, però secondo me, è davvero Nemo con The Code, è una di quelle canzoni che secondo me meritano di aver vinto l'Eurovision Song Contest. The Code, The Code con Nemo, con The Code, vincitore dell'Eurovision 2024, Eurovision Song Contest 2024, e quindi il prossimo anno si terrà in Svizzera, siamo già tutti qui pronti e trepidanti per sapere dove, perché, beh, è vicino, si può andare, si può fare, si può fare, speriamo bene perché si può andare, quindi, non so, per adesso ci sono già le candidature, ieri sera c'erano già fuori alcune candidature, Zurigo, Basilea e Ginevra, hanno già detto che sono disponibili ad accogliere l'Eurovision Song Contest 2025, no, ci mettiamo un bel Lugano, così siamo più comodi noi altri, però, sarebbe comodissimo. Comunque, quindi, speriamo in bene che se ormai si riesca ad andare. E allora, i WhatsApp arrivano già qui in studio, al 3317853555, buongiorno Fabio, buongiorno Cristallini, buongiorno a te Alberto, inizia una nuova settimana con la pioggia, oggi per me è giornata difficile e fastidiosa, speriamo, finger cross. Vincitore dell'Eurovision 2024, come nelle previsioni della vigilia, parla appunto di Nemo e Decodesi, era uno di quelli che era lui, bebi lasagna, che poi comunque è arrivato secondo con la Croazia, insomma, erano di quelli, poi, noi ci mettiamo sempre l'Italia dentro, ma non è che fosse proprio una delle favoritissime, eh. Buongiorno, un altro WhatsApp che arriva, buongiorno da quella di Bergamo, il mio fine settimana è stato piuttosto intenso, ma poco riposante, non fosse altro perché è stato caratterizzato da dolore alla schiena e alle gambe. Ah, signora mia, cosa mi dice? Sono qua in studio con un mal de scena che non ti dico. Mi servirebbe un giorno ancora di riposo e serenità. Mannaggia, buon inizio settimana a tutti, buon inizio anche a voi, buon inizio a tutti quanti, nonostante la pioggia. Devo dire che siamo tutti un po' meteoropatici da questo punto di vista, nel senso che la pioggia ha pochi da così tanta serenità, soprattutto credo che dopo queste settimane, dove veramente è isterica questa pioggia, perché piove un giorno, poi no, poi sì, poi tre giorni di pioggia, poi viene un caldo, io rifaceva caldissimo a un certo punto, cioè il sole si schiattava. Quindi mettiamoci d'accordo perché veramente non si capisce assolutamente niente e altro che non ci sono più le mezze stagioni. Qua siamo proprio in stagione delle piogge, stagione delle piccole o grandi piogge, non lo so, bisognerebbe capire e parlare con un meteorologo. Prima e poi lo porto un meteorologo qui in studio perché davvero non stiamo più capendo assolutamente niente di questo clima. Comunque c'è la pioggia e sapete che quando c'è la pioggia la città diventa sempre un disastro, quindi attenzione a dove dovete andare e come dovete andarci. Sta piovendo da poche ore, quindi non credo ci siano grossi danni in giro, però si esce di casa in macchina, quindi poi tutti in coda, tutti che non sappiamo, c'è i motorini, oggi se ne vedono pochi, se esci il motorino devi stare attento perché scivoli sulle strisce pedonali, se vai fuori col tram ti bagni tutto, le metropolitane attenzione perché sono quelle che poi si allagano, insomma è sempre un po' complicato, ma soprattutto appunto dicevo tantissime le auto che ci sono in giro e quindi per capire se queste auto provocano o meno tanto traffico ci colleghiamo con Luce Verde che tutti i giorni ci dà la fotografia in tempo reale della situazione del traffico su Milano, ma non solo sulla città metropolitana, ma non solo anche in regione perché insomma bisogna spostarsi dalla nostra città e andare magari da quella di Bergamo ad esempio, oppure se volete andare nell'oltre pop avese come ho fatto io questo weekend, adesso può benissimo tranquillamente capire che traffico troverete quest'oggi nel vostro muovervi nella città, anzi in questo istante, quindi se siete in auto e ci ascoltate attraverso l'FM con 96.2 oppure con il DAB, oppure avete il CarPlay o l'Apple Car, collegando il vostro cellulare, la vostra app alla vostra radio, beh ecco sappiate in questo istante, orecchie alzate perché potete sapere qual è la strada migliore da prendere alla faccia di Google Maps, perché insomma dobbiamo anche stare bene a sentire tutto com'è il traffico in questo istante, luce verde! The Bengals, The Bengals, Manic Monday a 7.22 di lunedì 13 maggio, insomma quasi arrivati già anche alla metà di maggio, un attimo ragazzi, è un attimo che qui si va, si va verso l'estate, infatti il tempo lo ce lo dimostrano benissimo, mamma mia, c'è buio fuori, c'è io vedo buio al di là del vetro questa mattina, spero che la regia non si siano addormentati perché davvero, stamattina porta a dormire con il play dovunque ti metti secondo me, cioè anche sul tram, se siete su 14 ti vieni da... così fai proprio, non ti metti lì e ti vanno addormita di quelle che non ti raccomando. Comunque in weekend, weekend come sempre, c'è anche bel tempo, quindi Movida, weekend Movida, Movida a soliti luoghi e tant'è che appunto Ripa di Porta di Cinese balza sui giornali perché leggiamo da Corriere della Sera Milano, Ripa di Porta di Cinese, i residenti dicono Movida Selvaggia, anche un'ambulanza rimasta bloccata, servono più controlli, l'intervento per un codice verde secondo il comitato è stato rallentato dalla folla e dai Deors, si mette a rischio quindi il diritto della salute per il profitto di pochi. Poi appunto un appello al comune che intervenga. Allora qui è una questione vecchia, sicuramente come dire non è un discorso di siete vecchi, non volete farci divertire, non volete... è che forse sta un po' scappando di mano questa cosa della Movida, ma non è colpa solo di Deors, non è colpa, è proprio colpa nostra, c'è poco da fare, che andiamo, che ci ostiniamo ad andare tutti nelle stesse zone, perché poi in realtà qual è il problema? che ripari porti cinese, malalzaia, così sono strapiene di locali, strapiene di Deors, disposte di 800 metri e c'è il nulla più assoluto. Allora è questo il problema, cerchiamo di capire come fare a rendere tutta la città abbastanza attrattiva, in modo che si diluiscono i milioni e migliori di persone che si affollano, perché poi è questo il problema, non è che sono solo i milanesi, sono quelli che giustamente anche, ma benvenga, i turisti, quelli che vengono da fuori per il sabato sera, che vengono dalla provincia, cioè ci sta, ci sta benissimo, quelli di Paria, quelli di Como, quelli di Lodi, ma è ovvio, nel senso che Milano è attrattiva e quindi benvenga, ma ripeto, benissimo, in più ci siamo noi di Milano che ci andiamo a ficcare nei luoghi dove vanno anche i turisti, allora forse cerchiamo di, cioè perché Via Lovara alle nove e mezza di sera, dieci, undici quando ti va bene, si svuota completamente, non c'è nulla da fare in tutta la zona qui, quando invece poi vai a metti fino alle quattro del mattino a fare casino sotto casa di quello che abita sull'Alzaia, allora non va bene né da una parte né dall'altra, cioè bisogna cercare di equilibrare le cose, ma ci sono quartieri completamente fuori da questo giro che potrebbero benissimo diventare qua invece interessanti, no? Perché? Lambrata ad esempio sta facendo un bel lavoro, via Conterosso, quella zona lì che era stata invasa dal fuori salone qualche anno fa, adesso si è un po' smarcata, c'è movimentazione, diciamo, c'è movida, ma sembrerebbe finalmente che sia anche, soprattutto, quello che dico sempre io, una movida locale, cioè quelli che abitano lì gli viene da andare giù al bar a fare serata, no? Che è fondamentale perché poi a quel punto l'ho anche tu, sei più invogliato a vedere la gente, non ti dà meno fastidio il rumore e il casino che può nascere, capito? Così che funziona. Secondo me, e poi va bene, vedremo, adesso vedremo l'appello appunto dei comitati qui dei quartieri di Porta di Cinese, hanno fatto appunto questo appello al comune, vedremo se il comune finalmente risponderà. Torniamo all'Eurovision perché c'è un'altra canzone che secondo me meritava davvero la vittoria ed era quella della Francia, qualcosa di pazzesco con Mon Amour, la Francia veramente ha, ancora una volta, rischiato di vincere. Angelina Mango con la noia nella versione di Sanremo questa, perché sapete che c'è una piccola differenza tra le due versioni, una quella presentata appunto a Sanremo, quella che c'è sul disco per intenderci, e quella presentata invece all'Eurovision Song Contest, di nove secondi. Ebbene sì, perché le canzoni dell'Eurovision non possono essere più lunghe di tre minuti e quindi la noia di Angelina Mango è tre minuti e zero nove e quindi, come fare, hanno tagliato un doppio ritornello sul finale, nel senso, anzi, prima dell'ultima strofa. C'è un doppio total che viene elevato. Se hai sentito la versione dell'Eurovision, se la cantate e presi bene, effettivamente a un certo punto state per ripetere totale, invece no, va subito la strofa. Quindi, vale, ma non perde di potenza questa canzone, che anzi funziona molto molto bene. Un'esibizione, quella di Angelina Mango, sia in semifinale che in finale molto molto apprezzata da tutti. Apprezzatissimo anche quello che ha fatto in Sala Stampa, dove a cappella, diciamo, chitarrista dietro, diciamo, in acustica, ecco, diciamo così, in acustica, ha voluto intonare Imagine, concludendo dicendo, lasciamo che sia la musica a parlare, così appunto riferendosi a tutti i conflitti che ci sono in questo momento. Anche lì mi spiace tantissimo poi quello che è successo dopo, nel senso che è salita su una polemica pazzesca, perché cosa è successo? Lei interpreta il brano. Cercatelo sui social che è qualcosa di emozionantissimo. Proprio lo vedete anche lei molto emozionata nel fare questa cosa. Oltretutto la Sala Stampa era praticamente disinteressata da quello che stava succedendo. Poi pian pianino si comincia a interessare, quindi alla fine c'è un grande numero di persone intorno ad Angelina che appunto intona Imagine di John Lennon. Poi cosa succede? Finito quello, lei prende, si gira e se ne va abbastanza velocemente, visivamente emozionata, quasi e senza neanche dare troppo retta alla manager che invece va lì e cerca di abbracciarla, ma invece sbatte il pass sul lettore per uscire dalla Sala Stampa e se ne va fuori. Polemiche, litigata tra... No, era semplicemente, poi hanno dovuto dirlo, ma che fa ridere, che devi dirlo, era semplicemente visibilmente emozionata e ha detto, sono corsa via perché le emozioni mi stavano sopraffando e sono dovuto andare nel backstage, sono dovuto uscire da quella stanza per vivermi le emozioni da sola, tradotto in italiano, mi veniva troppo da piangere, sono uscito, sono uscita, sono andata di là e mi sono sfogata. Cosa che, posso dire, fa notare ancora di più quanto si chiama artista una persona, anzi, una ragazza così, così giovane, che sottolineo anche sempre questo. Pensate, pensate all'emozione, ma soprattutto alla pressione che deve aver avuto Angelina Mango in questi giorni a Malmo. Cioè, pensate cosa non è stato. Io sfiderei chiunque di noi a vent'anni a vivere un'esperienza del genere ed uscirne salvo, soprattutto quello. Quindi davvero complimenti ad Angelina e andate a cercarvelo quel pezzo sui social perché è davvero interessante. Angelina, che appunto è all'Eurovision Song Contest, è stata all'Eurovision Song Contest perché è vincitrice del Festival di Sanremo. Quasi sempre succede questo. Non sempre, in alcuni anni, si era deciso di fare delle modifiche o di decidere diversamente, oppure chi aveva vinto aveva rinunciato e quindi andava la seconda persona oppure un'altra persona designata da Rai, come ad esempio la Michelin quando fece il suo Eurovision Song Contest. Ma a volte si cambia canzone, come invece fece Nina Zilli, che con una canzone vinse Sanremo, ma poi decise di portare l'amore femmina appunto all'Eurovision. E allora ce l'andiamo ad ascoltare. Nina Zilli nel 2012 appunto concorre all'Eurovision Song Contest con una canzone che si chiama L'amore è femmina. Nina Zilli, good morning Milano. Nina Zilli, l'amore è femmina. No, 2012. 2012 appunto era l'Eurovision Song Contest del 2012 in cui presentò appunto questa canzone che non fu quella poi che aveva vinto Sanremo. Perché? Una cosa particolare che magari alcuni di voi si sono accorti durante l'esibizione, sono andato anche a rivedere il pezzo, perché è venuta a fare una superimpressione a un certo punto durante l'esibizione di Angelina dicendo che Angelina era la prima donna dopo 60 anni a portare la canzone vincitrice del festival all'Eurovision Song Contest in quanto cantante appunto cantante donna. E allora ho detto ma come è possibile? C'era Nina Zilli. Ed effettivamente l'ultima donna che ha cantato all'Eurovision Song Contest la stessa canzone che aveva vinto a Sanremo era stata nel 1964, tra parentesi vincendolo, Giulio Lacinquetti con Noll'età. Quindi pensate che 60 anni dopo tutto fu una della prima vittoria dell'Italia all'Eurovision Song Contest. Giulio Lacinquetti appunto presentò Noll'età a Sanremo e vinse a Sanremo, la portò all'Eurovision Song Contest di quell'anno e vinse appunto l'Eurovision anche del 1964 appunto che si teneva a Copenaghen in Danimarca, pensate sì, la nona edizione era. Vinse appunto l'Italia con Non ho l'età che era la canzone che vinse a Sanremo. Quindi pensate, tutte le volte diciamo ah, quelli che vincono portano lì ed è così perché tutti gli altri hanno in teoria cambiato canzone oppure appunto Nina Zilli come esempio aveva appunto portato una canzone diversa da quella che doveva portare, altre sono state ripescate. L'anno che andò Emma fu scelta la Rai. La Rai decise che era Emma, a prescindere da chi vinceva a Sanremo, no. L'anno della Michelin non vinse a Sanremo quell'anno, vinse un altro. Quindi insomma, 60 anni dopo finalmente una donna riporta una canzone che vince a Sanremo all'Eurovision Song Contest. Beh, direi che vi ho detto tutto quello che c'era da dire oggi su Eurovision. Come capite bene, sono abbastanza appassionato di Eurovision. Sì, mi piace molto. Voi a quale è piaciuta di più di canzone se l'avete seguito? 3, 3, 1, 7, 8, 5, 3, 5, 5, 5. Questa mattina abbiamo ascoltato la Francia, abbiamo ascoltato la Svizzera, abbiamo ascoltato l'Italia. C'è qualcos'altro che vi può interessare, vi può piacere? Io vi faccio sentire quell'altra che secondo alcuni doveva essere quella che avrebbe sbancato. Invece è arrivata seconda, se l'è giocata fino all'ultimo con la Svizzera che ha preso 12 punti praticamente da ogni delegazione possibile e immaginabile. Quindi insomma era abbastanza scontato che arrivasse prima, però insomma anche la Croazia appunto con Rimtigidagadim insomma ha fatto il suo bel lavoro. E allora andiamocela ad ascoltare qui alle 7.43 su Crystal Radio Good Morning Milano, la canzone della Croazia appunto Rimtigidagadim devo leggere un pian pianino perché sennò... Però poi quando la sentite in realtà vi viene da cantarlo sul ritornello. E andiamo avanti allora Rimtigidagadim Eurovision 2024 Croazia E questa era la Croazia Rimtigidagadim è impossibile da leggere velocemente quello è quel titolo posso dirvelo comunque è una bella forza seconda è arrivata seconda è arrivata Quasi finita appunto la pagina Eurovision anzi adesso la chiudiamo con l'ultima canzone che volevo farvi ascoltare perché quella che vi avevo detto ricordava un po' Angela Mango allora non è che la ricorda la canzone ma ha la stessa identica struttura quello che volevo dire e soprattutto i personaggi sono abbastanza simili perché tutte e due cantanti giovani tutte e due molto belline con il balletto con tutta la scenografia lei si chiama Tali o Talì quella che appunto canta per il Lussemburgo ma soprattutto c'è una cosa che può appunto ti fa capire qual è il comun denominatore Dardust eh sì ha lavorato la produzione di entrambe le canzoni sia quella di Angela Mango che quella di Talì con Fighter appunto che è stata la rappresentante del Lussemburgo ma aspettavo di più anche da loro devo dire la verità ma aspettavo veramente di più anche da loro non è poi andata neanche loro così tanto bene vabbè peccato mi spiace per Talì perché insomma la canzone è orecchiabile ci sta dentro diciamo che forse ecco appunto lo stesso destino che ha avuto con Angela Mango cioè non è stata più di tanto apprezzata questa cosa io sono rimasto un po' sconvolto ad esempio dai voti della Spagna bassi sulla nostra canzone che invece insomma richiamava un po' quel tipo di sonorità invece niente non ci hanno votato più di tanto quindi e vabbè però insomma le giurie sono sempre una cosa un po' particolare le giurie pensate che la presidenza della nostra giuria italiana era Big Mama quest'anno poi c'era un po' di gente dentro ma tra cui appunto spiccava la presidenza di Big Mama quindi the Big Mama President questa volta andiamo allora con Lussemburgo sì ascoltiamoci Fighter Talì con Fighter alle 7.48 qui su Crystal Radio Good Morning Milano Fighter et voilà Talì da Lussemburgo per la produzione di Dardust al secolo Dario Faini che appunto è stato è un compositore della musica sia di questa canzone che abbiamo appena ascoltato che di La Noia di Angelina Mango bene buon lavoro a Dardust perché dico buon lavoro perché è arrivato il momento del nostro buon lavoro del lunedì il lunedì si inizia la nuova settimana bisogna iniziarla col piede giusto soprattutto se si ha da lavorare e soprattutto se si possono avere delle buone notizie sul mondo del lavoro troppo spesso insomma si racconta del mondo del lavoro solo il lato negativo che ahimè c'è grosso e sono tanti ma insomma anche quello riusciamo a darne conto dai giornali e altre volte invece per fortuna si riesce anche a raccontare storie belle del mondo del lavoro chi lo fa soprattutto Filippo Poletti che è top voice di LinkedIn ogni giorno su LinkedIn racconta le sue storie sul mondo del lavoro le notizie le curiosità le più belle iniziative che avvengono appunto nel mondo del lavoro ma poi lunedì ci fa un po' un riassunto o meglio ci dà le tre parole della settimana per augurarci al meglio il suo buon lavoro e quindi allora in una moto di bontà do al buon lavoro sono ben contento di dare e di dire buon lavoro anche a Filippo Poletti ma soprattutto di ascoltare insieme a voi quali sono le notizie del buon lavoro di oggi quindi buon lavoro a te Filippo dici un po' dici un po' dici un po' dici un po' buon lavoro Filippo Buon lavoro a tutti la prima parola della settimana è inclusione premio Guido Carli l'ex governatore della Banca d'Italia a chi? a Nino Acampora il fondatore di Pizza Out la pizza nata alle porte di Milano che impegna ragazzi autistici bellissime le parole della presidente della fondazione Carli dotato di buona volontà davanti alle sfide e alle difficoltà Acampora non si arrende e disegna nuovi orizzonti nella sua storia vive la lezione di Carli ossia la sua fiducia nell'Italia dell'impegno che sa regalare appunto fiducia nel futuro premio meritatissimo la seconda parola chiave della settimana è facoltativa congedo parentale facoltativo pagato al 100% dove accade accade a chiesi farmaceutici per il triennio 24-26 2024-2026 varrà per tutte le mamme e per tutti i papà comprese le coppie omogenitoriali la terza e ultima parola chiave della settimana è Lombardia aumentano le imprese che offrono che cosa benefit e welfare aziendale per attrarre i dipendenti svetta secondo la CGA di Mestre la Lombardia seguita dalla provincia di Bolzano e dal Veneto interessanti le parole del direttore dell'agenzia regionale Veneto lavoro Tiziano Barone il capitale umano dice non è una risorsa che possa arrivare semplicemente premendo un pulsante è l'era del welfare del benessere dunque buon lavoro a tutti e da ultimo scrivetemi 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 su LinkedIn segnalandomi le belle notizie dedicate al mondo del lavoro buon lavoro a tutti The Bomb The Bugheads 8 e 11 minuti il Crystal History delle 8 sempre qui in diretta su Good Morning Milano Crystal Radio 96.2 FM Da Plus e tutto il resto lo sapete benissimo ci sono mille milioni di modi in cui potete trovarci e insomma vi auguro di trovarci ok leggiamo dal link invece della Corriere della Sera Milano una notizia che fa capire come la nostra città veramente si può fare tutto a Milano si può davvero fare tutto a Milano due ventenni dalla Sicilia a Milano per aprire un ristorante erotico la città è curiosa e c'è il tutto esaurito voglia Milano scontrino medio 100 euro 100 cucuzze è nel cuore di Porta Venezia Claudia Mangano e Stefano Vaccaro siciliani hanno locali anche in Inghilterra e Spagna qui nulla è volgare solo Gugliardico la cucina raffinata si sposa con la sensualità esponiamo design e si esibiscono artisti solo a Milano potete fare una roba in qualsiasi altra città d'Italia secondo me vi dicevano ma che state facendo e a Milano invece sono tutti curiosi tutti in coda per andare al ristorante erotico pensa a te che roba sul menù sul menù potete trovare piatti come la mela del peccato oh my qui è scritto oh my good ma non si dice oh my god ma non lo so oh my good too hot to handle saltami addosso ok così questi sono i piatti che trovate sul menù via Panfilo Calstaldi nel cuore di Porta Venezia primo ristorante erotico in Italia aperto solo la sera e il sabato e la domenica fino alle 3 di notte non poteva appunto capire nella città palcoscenico di stile e tendenza sfidando il rischio di essere considerato un luogo equivoco ma che rischio proprio quello chi è che ha scritto questo articolo non è il rischio è proprio quello cioè il luogo è equivoco e 15 la gente ci va per quello ovvio nel senso non è che si sa che non è una roba volgare o chissà che cosa ma ci vai perché è un po' così che non sai bene che cosa trovare dice c'è una domanda che è fantastica la seconda domanda dell'intervista è non temete di attirare le irie dei bacchettoni ma è ovvio cioè nel senso non sto neanche a leggere la risposta che dice no vogliamo sdoganare l'erotismo in una maniera regogliardica divertita allontana dalla volgarità ma è ovvio che giochi però su quello giochi sul fatto che qualcuno si indignerà inutilmente e poi posso dire ma cosa ti indigni per un ristorante erotico non succede niente cioè nel senso non è un club scambisti cioè adesso è un ristorante dove si strizza l'occhio l'erotismo vabbè cosa sarà mai davvero ormai siamo ancora così addietro indietro che dobbiamo pensare che ormai tutto ciò che ha la parola erotismo dentro sia una cosa originosa ma dai no davvero dopo di che vabbè solo a Milano si può far parlare così tanto tanto di una roba del genere cioè andate a mangiarvi mela del peccato che è una finta mela di Anas su crema Anas e cacao un mousse lo yogurt e crumble di non so cosa viene composto al tavolo con un live show che convolge tutti gli ospiti ci sono 80 coperti diamo qualità attenzione a ogni particolare va bene i giovani chef Mattia Valsecchi e Francesco Bordignon si sono formati a Dalma la scuola che diresse Gualtiero Marchesi pensate hanno ancora lavorato in ristorante stellate tra i quali Craco e Cum Quibis con lo chef Alberto Sparacino e hanno fatto parte qui a Milano del team di apertura di Zaya Restaurant bene il curriculum c'è speriamo che sia anche buona mania se volete 100 cucuzza testa potete andare tranquillamente a mangiare da voglia Milano appunto scontrino a Milano mi piace questa cosa che inizia così l'articolo voglia Milano scontrino medio da 100 euro ma dai ma non è io sono solo a Milano secondo me questa dovrebbe essere la rubrica solo a Milano perché tutto esaurito già tutto tutto esaurito chissà quando potete andarci se mai ci andrete e se mai volete andarci vabbè andiamo avanti con la musica gli 883 hanno ucciso l'uomo ragno 883 hanno ucciso l'uomo ragno qui su Cristian Radio Good Morning Milano e andiamo a leggere una notizia proprio dal Corriere della Sera Milano il restyling dell'ippodromo di Milano piste tribune scuderie e il trasloco del trotto inaugurazione l'11 luglio e poi c'è un pezzo che io non capisco siamo parlando di un ipodromo che chiude praticamente quello della Maura detto male ma è quello che succederà nel senso e del fatto che verrà tutto condensato nell'ippodromo di adesso ma comunque con il rischio che finisce un'era nel senso e quindi cosa diamo poesia a questo momento invece che essere tristi perché vi leggo l'inizio dell'articolo oltre gli anelli terrosi i pratoni le boscaglie i boretti le antiche scuderie uno stretto tunnel sotto l'incrocio tra via montale e via ipodromo fa da cerniera tra passato presente e futuro dell'ippica milanese da una parte l'immensa area della pista della maura appena venduta con la sua decadente cornice di costruzioni equestri cariche di fascino storia e qualche inquilino abusivo tra parentesi vorrà dire che ci costruirà qualcosa però questo è domanda scusi è giornalista che fa poesia invece che scrive un articolo dall'altra parte l'ippodromo del galoppo qui alla fine della via Fetronte si estinguerà la costellazione dei quattro storici impianti ipici chiudendo la sua orbita sempre più fino ad illuminare soltanto l'ex ipodromo del galoppo oggi ipodromo snai unico e redisegnato dello storio ovale dell'universo trenno e san siro ma vi sembra stiamo leggendo cosa Kant stiamo leggendo un articolo su un ipodromo che chiude lo presentiamo come se fosse qui un problema ragazzi altro che 20 milioni di euro per sistemare l'ippodromo di san siro in cui adesso arriverà anche il trotto perché poi questa notizia cioè che il trotto si sposta per l'ennesima volta prima era di fianco a san siro poi si è spostata la maura ma la maura l'ha venduto quindi anche lì durato niente quell'ipodromo praticamente durato come un gatto intangenziale e poi adesso ritorna tutto in quello che era una volta il galoppo il galoppo e quindi l'ipodromo di tutti quanti ma vi sembra vabbè vabbè attenzione ho fatto un danno scusate ho fatto un danno perché adesso adesso dobbiamo ascoltare invece il sommario il sommario di chi di senti questa di ambrogio curti che è qui che vuole entrare vuole dirci che cosa ci sarà questa settimana nella sua trasmissione che va in onda tutti i giorni dopo di noi alle 9.05 dopo il giornale radio allora ambrogio dici un po' che cosa succede questa settimana in senti questa ambrogio l'abbiamo sentita benissimo grazie mille anzi ricordatevi dopo di noi ambrogio curti alle 9.05 dopo il giornale radio dopo la fine della nostra trasmissione tutti i giorni dal lunedì al venerdì con senti questa grazie mille ambrogio ci sentiamo dopo intanto con un po' di musica perché adesso continuiamo con good morning milano qui in diretta fino alle 9 Sabrina Salerno con Boys 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 1987 pensate lunedì 13 maggio 8.35 minuti ultime battute di questa puntata e ho voluto qui con me in studio la nostra bravissima producer Elisa buongiorno ma buongiorno Fabio da quanto che non ci vediamo infatti perché abbiamo passato un weekend praticamente a vederci tutto il weekend weekend per regno di crodi impegni come è andata? è andata bene è stato un weekend impegnativo ricco di eventi però bellissimo in realtà abbiamo iniziato giovedì con la Civil Week sì giovedì venerdì sabato di Civil Week sabato anche la festa di Crystal Radio allora da dove vuoi iniziare? vuoi iniziare con la Civil Week o la radio? dimmi tu decidi tu partiamo da sabato da sabato da sabato mattina come è stato allora andare negli studi di Crystal Radio e raccontare questi 40 anni e tu che sei ben arrivata soprattutto è stato bello bello abbiamo conosciuto Ambrogio abbiamo conosciuto Nello abbiamo visto gli studi di Crystal Radio che sentiamo sempre parlare raccontare ma così abbiamo dato anche un'immagine visiva abbiamo visto come sono realmente questi studi eh sì perché noi noi trasmettiamo dallo studio di San Siro loro sono invece lo studio di Ludovico il Moro e quindi siamo finalmente potuti andare là e fare una trasmissione live lì da loro assolutamente sì 40 anni di radio ma sono tanti 40 anni sono tantissimi 40 anni sì è una vita di esperienze di assolutamente ci sarà qualcosa che tu tra 40 anni direbbe però per 40 anni ho fatto quella cosa no io non ho una cosa che dico per 40 anni l'ho fatta ma va io dopo 10 anni mi stufo di qualsiasi cosa per 40 anni mi sono svegliata tutti i giorni quello assolutamente sì giusto è vero è vero è vero effettivamente sono 40 anni e passa che mi sveglio tutti i giorni è già un bel risultato effettivamente non è male non è male assolutamente poi li hai visti questi giovani qua questi ex giovani che 40 anni fa hanno fatto la radio quanto sono giovani anche adesso alla soglia dei 60 lo possiamo dire la media la media lì dentro è quella la media chi ha fondato ovviamente aveva 20 anni quando ha fondato la radio 40 anni fa quindi insomma più o meno la media è quella lì no assolutamente sì io non ce l'ho quell'energia neanche a 20 anni ce l'avevo quell'energia lì non è vero non è vero sarà la radio che ringiovanisce sarà la radio che non fa invecchiare che mantiene vivi giovani dici che la radio fa bene da quel punto di vista quanto pare sì è vero è vero bene insomma è stata una bella esperienza come è stato raccontare anzi ormai insomma sono un paio di mesi che sei qui a fare la produce come è ogni giorno raccontare la città dai microfoni di una radio bello bello è bello soprattutto trovarti anche davanti al microfono di solito sono di là ad ascoltare invece a provare a dar voce alla città è una bella esperienza bene ne sono passati ne passeranno ancora tanti di ospiti che insomma tu hai dovuto sentire raccontargli spiegargli sentire i loro raccogli ma ci sono quegli ospiti che non ti morano più no? sì 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 non facciamo nomi però ci sono sì assolutamente che ti ammorbono con le loro storie sì che poi anche dopo la diretta ti fa piacere perché comunque continua a sentire sei sempre aggiornato però ti raccontano sempre ti inviano sempre notizie non ti lasciano mai un solo secondo cioè alla fine diventi la loro confessora come si dice confessora confidente grazie confidente è meglio sì effettivamente cioè quindi diventano proprio parte della tua vita diciamo assolutamente sì da quando li conosci dicono basta adesso continueremo il nostro percorso insieme beh dai però è interessante chissà quante cose nuove anche se stai sconoscendo anche tu quello sì ci sono tantissime cose che magari dai per scontate che non magari non ti soffermi su determinati tipi di notizie ma dovendo fare dovendo conoscere le notizie raccontandoli anche agli ascoltatori ti ci soffermi di più e impari a scoprire meglio magari questa Milano che a volte diamo un po' per scontata ecco allora quindi consiglieresti una carriera radiofonica assolutamente sì e allora adesso andiamo con un po' di musica poi mi racconti perché voi non sapete appunto che Elisa in realtà lei sta studiando e sta facendo appunto questa esperienza legata al suo studio giusto? tu studi? io studio comunicazione comunicazione alla IUN giusto? sì ok perfetto quindi stai facendo questa esperienza per capire se davvero un giorno sarà questo il tuo futuro chissà ma soprattutto appunto capiamo se magari ad altri che sono in ascolto potrebbe interessare magari l'idea di venire a raccontarsi o meglio venire a provarsi no? come dire mettersi la prova è un po' un test questo per capire se quello è il mondo che ti interessa assolutamente mettersi in gioco conviene sempre ci avevi mai pensato la radio prima di venire qua? sì mi era passato per l'anticamera del cervello ma fin quando non lo vivi non sai e allora vediamo avanti con la musica adesso è il momento di Coez con Occhi Rossi e poi parliamo invece di Civil Week perché il weekend la carriera Lisa se l'è fatta anche in giro per la città in giro per la provincia e anche in video perché ha fatto le bellissime interviste che poi ci racconterà avanti Coez Occhi Rossi Coez Occhi Rossi Occhi Rossi che rischiamo Elisa di avere questa settimana perché raccontiamolo a chi ci sta ascoltando magari a cosa succederà questa settimana qui a Good One in Milano per cui potremo avere gli occhi rossi a fine settimana ci lasceranno la nostra Andreina e la nostra Mary passeranno la vita migliore no nel senso che finiranno il loro tirocinio qui con noi e torneranno anzi torneranno a fare gli esami a fare le lezioni avete fatto tre mesi di vacanza altro che qua vabbè e ci hanno accompagnato in questo periodo bellissimo eh sì ma allora senti anticipiamo un po' poi se riusciamo io vi ho fatto una promessa dovrei riuscire a portarvi tutti entro venerdì qui in in onda magari facciamo una puntata anche dedicata al discorso dello stage magari litighiamo anche un po' perché insomma so che non è gli stage non sono una roba sempre bella quindi non è sempre semplice come tema il lavoro gratis il lavoro non gratis la formazione sono quei temi veramente complicati da capire e anche poi da spiegare a volte però insomma questa esperienza tu sei qui fino a fine giugno con noi quindi insomma però insomma possiamo tirare un primo micro bilancio soprattutto dopo il weekend fatto in giro com'è stato questo weekend in giro con la civil week molto intenso weekend intensissimo ricco di emozioni perché comunque ti porta a confrontarti con realtà che che a volte magari non conosci o con con realtà di volontariato di associazioni no profit comunque tutta gente che si che lotta per il sociale che lotta per avere un mondo migliore che crede in quello che fa e secondo me è importantissimo anzi quello che dovremmo fare tutti un po' di più nella nostra quotidianità giusto e insomma ti sei anche dovuta cimentare nella versione giornalista intervistatrice come è andata bene 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 tu diciamolo tu non volevi farlo no però abbiamo rotto che rotto che rotto come dite voi peer pressure ecco bella esperienza che anche questo secondo me è da fare secondo me mi sono resa conto che all'inizio non volevo ero molto nella mia idea però poi ho pensato e detto caspita ma se non ci provi almeno a fare le cose a buttarti poi non saprai mai poi magari ti ritrovi fra un po' a dire ma perché non l'ho fatto alla fine si vive una volta sola ecco e com'è stato quindi lo rifarai? si lo rifarò lo rifarò lo rifarò davanti allo specchio lo stai rifacendo anche adesso dai un po' appunto dicevo se riusciamo entro fine settimana vorrei appunto riportarvi qui tutte quante per farvi raccontare proprio la vostra esperienza di stage e tirocinio qui a Good Money Milano quindi chiederemo anche ad Andreina chiederemo anche ce la faremo a portare Andreina secondo te davanti a un microfono e davanti a una telecamera guarda che anche lei a un certo punto ha detto ma forse dai lo faccio anch'io se siamo in difficoltà mi metto anch'io questa cosa non la sapevo non dovevi dirmela mi sa Andreina sei fregata non dovevi dirmela questa cosa no però insomma è stata veramente una bella esperienza quella di questo weekend quanto secondo te appunto ecco è come io dico sempre che la Civil Week la festa di Cristo questi avvenimenti che avvengono durante l'anno che succedono durante i tivosi di Rocini sono un po' come la gita di classe quando parti in una maniera e torni che è cambiato tutto è così anche questa volta? sì secondo me sì cambierà cambierà anche i rapporti tra di voi ci hai visto uniti come gruppo sì questo è secondo me è stata proprio una manna dal cielo aver trovato questo gruppo qua di persone ognuno ha un valore inestimabile veramente ci sono cuoricini che parlano della regia in questo momento adesso gli occhi rossi assolutamente ecco perché gli occhi rossi di corso sì sì no sono proprio fantastiche poi ognuno ti trovi persone che hanno da darti ognuna un qualcosa diverso ognuna ti regala un pezzetto di sé un pezzetto di cuore con la sensibilità la simpatia invece parliamo della tua esperienza il momento più bello di questo stage io so qual è secondo me però vediamo se me lo dici qual è il tuo il tuo momento più bello qual è stato il momento più bello oltre a sabato sera che hai terminato tu no non è vero non dello stage della civil week stavo pensando ancora no 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 tutto lo stage è stato secondo me l'avere iniziato sì secondo me l'avere iniziato io pensavo quella foto che hai quella foto che hai sul computer diciamolo in compagnia di Finardi che è venuto nostro ospite assolutamente a miei carissimi milanesi assolutamente con un'intervista che ha condotto Fabio voi dovete vederla allora Elisa Classe 1997 quindi super giovane diciamo una gruppi di Finardi fatte finita cioè una sessantenne fatte finita che impazziva dicendo ai miei tempi quando ascoltavo Finardi ma peccato che cioè com'è questa cosa perché sono quelle canzoni che ti accompagnano perché mia mamma le ascoltava sempre quindi sono quelle canzoni però anche tua mamma è giovane non è così mamma è del 68 però sono quelle canzoni che piacciono magari ai genitori che te li fanno ascoltare fin da quando sei piccolo e che sono un po' la tua coccola anche adesso che le ascolti ti riportano indietro nel tempo ti fanno rivivere e allora per salutarti ho scelto una canzone che secondo me anche questa qui ti ha coccolato quando eri piccolina è un Ivano Fossati che con tutta una banda va in giro a suona rock la mia banda suona il rock Ivano Fossati grazie mille Elisa ci sentiamo comunque in questi giorni tanto siamo qua dobbiamo andare avanti Elisa continua a produrre anzi se vi chiama qualcuno da Good Morning Milano sappiate che è Elisa Galmarini Ivano Fossati la mia banda suona il rock questa è la canzone che abbiamo dedicato appunto a Elisa nostra producer che ci ha raccontato un po' questo weekend pregno di impegni per Good Morning Milano e tutta la nostra squadra appunto dalla Civil Week la copertura di questa bellissima tre giorni di civismo volontariato associazioni fondazioni in giro per la città di Milano e per la provincia e poi sabato il bellissimo compleanno il quarantesimo compleanno di Crystal Radio ancora tanti tanti auguri a Crystal Radio prima di chiudere appunto poi ci salutiamo avete visto che è successo a Rovazzi ne abbiamo parlato tutti gli hanno rubato il telefonino mentre faceva una diretta su Facebook o Instagram non ho capito su Instagram credo così in diretta c'è anche la foto la cosa che mi fa morire da ridere è che c'è la foto sul Corriere della Sera di Rovazzi e il frame in cui quello che sembrerebbe gli abbia rubato il cellulare ma che insomma è abbastanza palese si vede meno che sia un altro dall'altra parte ma si vede uno che passa guarda dentro la telecamera poi gli passa dietro prende il cellulare e scappa ecco la foto il frame in questione è stato blurato alla faccia di quello che passa dietro perché c'è la privacy quindi non posso farlo vedere peccato che era già in diretta su Instagram e si ricordate c'è la diretta che comunque è salvata nel profilo comunque si rivede c'è quello che non capisco come sia le regole strane c'è chi ha urlato e gridato allo scherzo alla messa in scena in realtà sembra che veramente sia successo gli hanno rubato il cellulare insomma Weekend è un po' particolare per gli influencer Rovazzi appunto così e invece un bel po' più grave la situazione di Fedez che è stato denunciato per il pestaggio di Cristiano Jovino dal The Club alle botte cosa è successo così in titolo a Milano Today adesso in queste ore stanno facendo capire no lui è informato dei fatti non si capisce oggi capiremo bene qual è la situazione di certo sicuramente io in casa Ferragnez o Ferragni Fedez ormai non c'è più Ferragnez quindi insomma non si vive momenti semplici 8 e 55 minuti siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi di Good Morning Milano di oggi lunedì 13 maggio e mentre appunto ci avviciniamo a metà maggio ed alcuni non vedono l'ora che sia il 15 maggio perché sapete che ci sono alcuni che pagano il 15 quindi insomma alcuni finalmente prenderanno lo stipendio il 15 altri lo prendono il 10 altri la maggior parte il 27 e quindi anzi al 13 maggio cominciano già a dire wey non c'è più da nebbio arriva a fine mese qual è un casino però noi continuiamo invece con la programmazione continuiamo a dirvi che ero disperati quanto volete ma comunque c'è la musica c'è la musica di Crystal Radio sempre con voi ogni giorno qui in diretta e lo so che non è come un bonifico però insomma posso cercare un attimino di rendervi la vita migliore con qualche canzoncina anzi canzonette come diceva Edoardo dopo di noi senti questa con Abrogio Cuti abbiamo ascoltato il suo sommario di questa settimana tutto quello che potremmo sentire se ci sintonizziamo alle 9.05 anzi se rimaniamo connessi alle 9.05 qui su Crystal Radio per ascoltare Abrogio Cuti e senti questa non perdetevi il giornale radio che arriva proprio proprio adesso e dopo di noi finita la sigla parte quasi subito il giornale radio e augurando ancora un bellissimo e grandissimo compleanno tantissimi auguri a Crystal Radio per i suoi 40 anni vi do appuntamento a domani sempre qui in diretta alle 7.09 con una nuova puntata di Good Morning Milano la vostra sveglia la sveglia il morning show di Milano ciao